Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti alla nuova puntata, abbiamo ospite un cantautore, Andrea Roccio. Allora, secondo la domanda più semplice, chi ci sta ascoltando? Come descriveresti Andrea Roccia a chi ci sta ascoltando in questi istanti? Domanda che potrebbe essere la più semplice, ma anche la più difficile da rispondere così nell'immediato. Ma allora, semplicemente direi un ragazzo di 21 anni che da quando fa le scuole medie è appassionato di musica. Prima si parte con musica strumentale. Io nasco come flautista, quindi del flauto traverso, e ancora oggi studio questo strumento in conservatorio. E da qualche anno mi definisco anche un po' cantante, cantatore. Infatti è da appunto qualche anno, come dicevo adesso, che inizio il mio percorso un po' nei festival, nei provini, nei talent, e cerco di farmi sentire in qualsiasi occasione. Sono anche un po' cantante da strada, diciamo così, ho fatto queste esperienze. Devo dire che è proprio un contesto molto diverso da quello per cui sono qua oggi, ma comunque diciamo che ha sempre un po' il suo perché. Ogni situazione ti regala un'emozione diversa. E oggi sono qua appunto a presentare un po' la mia persona e il mio singolo appena uscito. A questo punto parliamo del nuovo brano, il primo singolo di debutto, ma è così tanto difficile che non è facile farlo? Nel senso, non è stato così difficile farlo perché sono stato accompagnato da un gruppo di musicisti e soprattutto di professionisti. Quindi appunto mi riferisco a, diciamo, i collaboratori, coloro grazie al quale è uscito questo singolo, ovvero tutte le persone che lavorano nel, diciamo, nella realtà di Up Music Studio, che sarebbe lo studio di registrazione dove ho collaborato e sarebbe lo studio della casa discografica Rosso il Tramonto. Non è facile scrivere un, diciamo, un brano del genere o farlo uscire perché comunque racconta qualcosa di personale, molto intimo, se vogliamo. E però comunque, come dico sempre, aiuta un po' chi passa un po' questi momenti a, non so, a rendere un po' più, un po' più leggera la situazione, no? Pur stando nel, pur stando nell'emotivo e nelle cose personali, attraverso la musica, diciamo che si riesce un po' a alleviare il dolore, diciamo così. Parlando che hai fatto comunque alcune cover in passato, negli ultimi due anni hai fatto delle cover, però entrare nello studio e rincidere il tuo brano con il tuo testo, qual è stata la prima emozione che hai provato effettivamente a produrre e incidere la tua canzone e non una canzone di altre? Certo, ma intanto è stata una cosa incredibile perché passi magari, no, dalla tua cameretta le prime volte col tuo microfonino, si passa, diciamo, a tutto un altro livello. Sei circondato da gente che fa quello 24-7, che vive di musica come alla fine vivi tu, ma nel panorama poi professionale. Infatti mi ricordo che appena entrato nello studio ho visto tutte queste attrezzature, mai visto, comunque era una delle prime volte che registravo anche in modo professionale la voce, almeno a quel livello, e vedo delle cose inimmaginabili, microfoni, schede audio, computer con dei programmi che magari ho visto anch'io, cercavo di approfondire, ma con una manualità loro li gestiscono che non ho mai visto. E diciamo, dal punto di vista proprio del cantare, diciamo che uno ci mette un qualcosa in più, quando canta un testo proprio, quando canta una canzone, diciamo che si sente sua, quasi come un figlio, perché è nata da te, è proprio un'emozione completamente diversa, si parla proprio di due mondi diversi. Quello delle cover che magari ti forma, ti fa un po' da, non so, è un po' la parte, come dire, l'allenamento, e poi arrivi un po' più pronto quando devi dare il 100% nelle tue canzoni. Poi sei passato dalle cover in inglese all'italiano, è un po' differente, un po' più complicato a questo punto. Ma io sono sempre stato un po' abituato, già da piccolo, a cantare in inglese, mi piaceva un sacco la musica d'oltreoceano, ma non per un motivo o per un altro, ma perché diciamo che i primi approcci musicali ce li ho avuti con, diciamo, il mio padre musicale, un certo Frank Sinatra, uno così a caso. E quindi diciamo che sì, ho sempre un po' preferito cantare in questa lingua e devo dire che forse è anche un po' più facile scrivere in inglese. Infatti mi sto anche, diciamo, ho già iniziato a scrivere altri singoli, altri inediti, e alcuni sono appunto in questa lingua non usuale, forse così tanto in Italia, da sentire da cantautori o comunque da gente che scrive in Italia, ma devo dire che è un po' più facile, nel senso che l'italiano è risaputo che sia una lingua poetica, che è molto sentimentale, puoi dire le cose in mille modi diversi e non essere mai scontate banale. Invece l'inglese ti aiuta un po', no? Le prime volte forse a essere un po' più diretto, un po' più naturale. Il passaggio, diciamo, che si è un po' creato grazie appunto anche a loro che mi sono stati un po' dietro, no? Della casa di App Music Studio e attraverso anche il loro aiuto nello scrivere il testo, diciamo che ci siamo un po' messi nella retta via per scrivere in italiano. Qual è stata la tua reazione quando una volta finito il brano, avevi il brano in mano, ovviamente il file in mano, l'hai fatto ascoltare e la faccia di chi l'ha ascoltato per una volta hai cercato di capire nello sguardo o oltre alle parole che ti dicevano e che cosa hai provato ognunque hai visto quelle reazioni e quelle facce o hai ascoltato quelle parole? Qual è stata la tua sensazione? Ma c'è da dire che quando io faccio ascoltare qualcosa di mio o un brano che sia non è facile, che sia qualsiasi altro brano, ho sempre un po'... è un po' come... mi giro sempre un po' dall'altra perché diciamo che quando uno fa qualcosa che ci tiene veramente a farla sentire alle persone care, comunque agli amici, ai parenti, ha sempre paura di un giudizio che non sia magari all'aspettativa che uno si fa. Devo dire che però mi è andata molto bene in questo caso e mi ricordo soprattutto quando lo feci sentire ai miei nonni e da subito loro interessatissimi a tutto il progetto, da più di un anno che chiedevano che mi fai sentire qualcosa, ma anche un pezzettino proprio interessatissimi. Il pomeriggio proprio fatidico in cui riuscirono ad ascoltare questo brano mi ricordo che dall'inizio alla fine c'era un silenzio veramente incredibile e quasi poi è veramente arrivato all'apice nell'ultima parte del brano che si sentiva un po' alla fase conclusiva, quasi con una cosa, non so, un'emozione di nostalgia e non so, si è andati a finire quasi proprio nell'emozionale quello vero e proprio, no? Così con una gocciolina di lacrima che scendeva e quindi, non so, per delle persone che mi sono sempre state molto vicine come loro è stato, credo, un'emozione grande, no? Sentire qualcosa che arriva da una persona così cara, così vicina. Se tu ci vuoi descrivere il tuo genere, perché in realtà probabilmente nel disco che andrà poi a uscire, negli processi bravi, non è solo questo genere, ma vai a cercare un pochettino, a infondere un pochettino dalla pop a rock. Sì, ma diciamo che il genere è una cosa che sto ancora cercando un po' anche io, cioè, soprattutto negli ultimi periodi, mi sto allargando, per fortuna, un po' la mia conoscenza musicale cercando di renderla a 360 gradi, perché nascendo da un panorama classico, all'inizio diciamo che la musica era un po' sempre quella, no? Musica classica dalla mattina a sera. Poi è arrivato il pop e questa canzone, diciamo che un po' descrive bene questo periodo, invece in questo momento sto andando più verso il soul, il jazz, il blues, quindi diciamo che sarà probabilmente un puzzle, un componimento di tanti piccoli pezzettini che andranno poi a comporre un insieme, che chissà, molto pittorico sicuramente. E oltre a Frank Sinatra, ci sono qualche altro artista che ti accorgi che comunque vada un pochettino se lo porti dietro perché quelle sonorità, involontariamente, le porti dietro? Certo, sì. Allora, un po' è stata anche lui una rivelazione dell'ultimo anno e mezzo, Lucio Dalla. Diciamo che soprattutto si sentirà in futuro questo modo di, non so, proprio di trasmettere le emozioni e anche proprio nel modo di scrivere mi sono ritrovato un sacco. Infatti, dall'ultimo periodo, proprio sfogliarsi gli album di Lucio Dalla è stata una delle cose principali che ho fatto. E mi rendo conto che poi pian pianino quando uno prova a fare l'arrangiamento che quindi si parte solo dal pianoforte e inizia un po' a esserci involontariamente, anche inconsciamente, questo infilarsi di particolarità di quei cantanti che alla fine uno predilige sempre. Invece, diciamo, sempre un po' di oltreoceano, soprattutto negli ultimi due anni, mi sono fatto un po' prendere da Stevie Wonder che quindi è tutto un altro genere, ma è così. La musica è bella perché varia e secondo me è bello anche variare all'interno del proprio repertorio. Passare e portare, poi ci saranno progetti per portare dal vivo? Hai mai suonato dal vivo? Io ho fatto di recente un'esperienza bellissima ad un festival qua nella mia provincia, nel Cunese, ovvero il San Rito Festival, che era appunto il portare un proprio single scritto appunto da te, arrangiato poi con una band che suonava dal vivo e quindi era proprio il momento giusto, secondo me, per capire se davvero i propri brani, i propri progetti funzionano davvero con delle persone che ti accompagnano nel live. E devo dire che è andata piuttosto bene e in generale sì, diciamo che preferisco sempre di più magari essere accompagnato da un quartetto d'archi oppure da io suonando il pianoforte magari dal vivo e accompagnato da degli altri strumenti che mancano per l'arrangiamento. Quindi sì, diciamo che me lo vedo bene e anzi è proprio quello che cercherò poi di fare in futuro. E qual è stata l'emozione che hai provato salendo sul palco del festival? In questo caso di fronte avevi una platea oltre che forse la platea la vedi buia perché veramente tra le luci l'emozione, la sensazione, l'adrenalina che hai di proporre però hai sentito poi quell'energia che da sotto è risalita verso di te perché poi sei emozionato, hanno partecipato alla tua canzone. Qual è stata appunto la tua sensazione? Domanda molto bella. C'è stato sicuramente un rapporto, cioè non è stata un'esibizione mera se stessa e basta. Cioè c'era proprio un... quasi come se tu stessi raccontando una storia ad un pubblico che in quel momento magari, non so, può essere immaginato come ad un bambino. Tu devi cercare di far capire alla gente che ti ascolta quello che vuoi trasmettere, anche se magari il testo non è così immediato, però con un'energia tale che loro riescano a immedesimarsi subito e anche a risponderti poi alla fine con gli applausi, con i complimenti. E diciamo che è un po' la barriera da superare, secondo me, per ogni musicista che canta, che suona dal vivo, è sempre quella di non lasciarsi trasportare in maniera troppo negativa dall'ansia della prestazione, del palcoscenico. Cercare di godersela al massimo è anche un modo per farla godere di più a chi ti sta ascoltando. E invece scendendo al palco hai incontrato qualche persona, ti hanno fatto complimenti, ti hanno chiesto domande particolari oppure soltanto hanno cercato di farti i selfie con te, ti hanno chiesto... Che cosa... Se sì, che cosa hai sentito, che cosa hai provato? È successo, innanzitutto, il complimento che mi hanno fatto di più presentando un singolo, appunto, completamente scritto, arrangiato da me, è stato l'originalità. Cioè, mi hanno detto è bellissimo che comunque a 21 anni che magari uno si aspetta magari non troppa esperienza nell'ambito della composizione, dello scrivere brani e comunque cercare di differenziarsi in maniera, come dicevano loro, in una maniera un po' diversa, no? Cercare non solamente di essere schietti, di essere diretti magari in quello che uno vuole dire e come lo vuole dire dal punto di vista musicale e quindi un complimento era appunto questo dell'originalità. Poi sì, è successo che magari ci si scambiava i contatti, no? Di Instagram, di WhatsApp per magari collaborazioni future o anche solamente gente che era venuta ad ascoltare e ti applaudiva, diceva dai, secondo me tu vincerai, tu sei il mio preferito e ti riempie il cuore di gioia, no? Soprattutto perché è anche difficile un po' in quei casi dire qualcos'altro se non grazie perché sono quei grazie che arrivano dal cuore e invece in molte altre situazioni no, sembra sempre qualcosa di costruito. Invece in quei casi lì ho proprio detto ah, è per questo che uno musicista alla fine suona, alla fine fa quello nella vita. A questo punto ti faccio una domanda un po' più tecnica, un po' più complessa. Ti trovi davanti al tuo pianoforte perché sei lì e devi partire per una nuova canzone con quale accordo partiresti? E perché? E di fingere. Allora molto difficile perché innanzitutto il processo di creazione almeno personalmente non parte sempre solo dalla musica. Quindi magari ho notato che alcune volte non serve nemmeno un accordo completo quindi tre o quattro note perché magari alcune situazioni ti richiedono o una melodia scoperta che quindi riesce un po' più andare nel profondo bisogna essere attenti solamente a che cosa dice magari la voce principale o uno strumento principale e quindi è veramente una domanda forse senza risposta. Posso dirti che quando succede appunto grazie alla musica un po' più jazz un po' più un po' più soul la ricerca dell'accordo principale è incredibilmente difficile perché o rischi di essere troppo banale o rischi invece di cadere nell'artificio quindi tutto troppo complicato che quindi non passa il messaggio è una ricerca difficile non saprei darti la risposta in questo momento gli indirizzi sono facilissimi Instagram Roccia Andrea Facebook Andrea Roccia Spotify Andrea Roccia quindi proprio più facile di così non si può il brano si chiama Non è facile e io ti ringrazio innanzitutto per avermi chiamato Studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro Intrappolato dai ricordi e io ti ringrazio